L'uomo spesso tradizza l'amore del Signore e non dirà del crede di potersi servire dell'amore di Dio come e quanto vuole. Servirsi nelle superstizioni, nei malefici, nelle magie, imprecazioni è una forma blasfema da contennarsi. Sia santificato il tuo nome. La grandezza e la fortezza di Dio si manifesta non tanto nella creazione quanto nella sua bontà di padre che vuole ad ogni costo che ogni uomo sia autentico suo figlio. L'azione principale di Dio è quella di pensare a me, alla mia santità e di pensare a ciascun uomo, a voi che mi state seguendo. Dio al di sopra di tutto pensa ciascuno di noi per un cammino di santità. Condizione per una vera lode è la purificazione del cuore, da ogni idolatria. Quindi siamo schiavo delle passioni, l'attaccamento ai beni della terra, il servilismo ai centri del potere. Certo queste cose attirano di più la nostra fantasia è il nostro appetito di realizzazione. Viviamo in questo mondo e quindi respiriamo l'aria di questo mondo ma è proprio qui che si deve notare il nostro impegno. Cioè siamo battezzati, diventati figli adottivi di Dio e dobbiamo vivere la vita di Dio. Nel giuramento non è permessa neppure la restrizione mentale cioè mentre si dice la verità in effetti non è così perché diciamo ben altro con altre parole che possono sembrare la verità. Gesù dice sia il vostro parlare sì sì no no, il di più viene dal maligno. La bestemmia è un maledire Dio, un rompere ogni rapporto di amicizia con Dio. è la figliolanza ma di conseguenza procede e porta alla morte. Nell'avancello notiamo che la bestemmia non è solo una frase offensiva verso Dio ma emana e forma uguale a lui non appropriarsi della sua prerogativa come perdonare i peccati. L'uomo si accaparra la capacità di perdonare i peccati quanto non ha questa possibilità. E' contannata anche la bestemmia contro la chiesa, i santi e le cose sante offendono Dio, il sagrileggio, la simonia e le inadempienze del voto. Padre Pio dice la bestemmia distrugge anche la cenere del focolare. E Padre Pio non perdonava, cioè non accettava questo stato di linguaggio blasfemo contro Dio. Dio padre buono e l'uomo indifferente e peccatose.